Se si allarga il contagio, ed è la ragione per cui teniamo chiusi i focolai, quindi chi fa il sacrificio lo fa per se stesso ma anche per noi, per tutti noi, se si allarga il contagio gli ospedali vengono gravati da un super lavoro, allora sarà necessario avere un certo numero di posti letto ad esempio in terapia intensiva. Ce li abbiamo? Siamo pronti? Ora ce li abbiamo e posso assicurare che sarà fatto in modo che ci sia la terapia intensiva per chiunque abbia bisogno, facendo in modo, sperando che sia almeno possibile. Sì, sicuramente sì. Per qualunque situazione di emergenza? Sì, ci sarà evidente, le ho detto che il piano prevede più assunzioni, quindi scatterà, il piano prevede che si acquisisca nuovi dispositivi per l'ossigenerazione. Ma è un piano che è già in atto, sta già avvenendo quello che deve avvenire, diciamo. Quindi già state facendo l'assunzione di persone sanitarie o in più? Sì, partiranno dovunque possibile, si farà dovunque necessario, si farà così. È ipotizzabile che si richiamino in servizio medici in pensione? Se fosse necessario, parlo però qui senza avere un dato, penso proprio di sì. Io spero che non sia necessario, insomma. Sono certa che il ministro Speranza non risparmierà nulla di nulla perché gli ospedali e gli italiani abbiano tutto, sperando che non serva. Mi dà notizia del 112 del 1500, i due numeri che sono...